E' terminata attorno alle 13.30 l'udienza in corte d'appello a Bari sul processo per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta gestita da ferro tranviaria Trande e Corato. Dopo il ricorso della procura di Trani a seguito della sentenza di primo grado del Tribunale tranese, oggi è stata la volta delle richieste. I PM di Trani hanno ribadito alcune azioni già inserite nell'atto d'appello con l'aggiunta di altre per cui ora la corte dovrà valutare l'ammissibilità. Una lunga seduta quest'oggi in cui c'è stata anche una pausa di un'ora si ripartirà comunque il 12 settembre, data di rinvio per ordinanza istruttoria come deciso dai giudici baresi. Le difese hanno evidenziato che alcune richieste dell'accusa dovrebbero essere rigettate perché inammissibili. Per la procura tranese invece è necessario un esame approfondito dei consulenti della difesa così come degli imputati, in particolare di Alessio Porcelli, capo stazione di Corato, in servizio quella mattina ed assolto dal Tribunale di Trani. C'è anche la richiesta di riascolto di alcuni testi tra cui i consulenti della procura, in più la stessa corte d'appello valuta la nomina di un CTU per analizzare le considerazioni tecniche avanzate sia dalla procura che dalla difesa rispetto alla obsolescenza del sistema del blocco telefonico. Al termine del processo di primo grado, durato diversi anni davanti al Tribunale di Trani, sono state due le condanne. Il capo stazione di Andrea, Vito Piccarretti, a sei anni e sei mesi di reclusione, è il capotreno del convoglio che andava da Andrea verso Corato, Nicola Lorizzo, a sette anni di reclusione. Assolti invece gli altri 14 imputati ed anche la società ferrotranviaria imputata per l'illecito amministrativo.